www.redigio.it e la storia continua Nei fatti delle guerre segrete, i guerrieri di eccezione sono proprio i cani I cani hanno una storia militare molto interessante Non pochi di questi fedeli, intelligenti e coraggiosi amici dell'uomo hanno persino guadagnato medaglie al valore ed uno di essi è giunto ad essere levato al grado di caporale e poi di sergente Si dice che Cersei, il famoso re persiano, facesse scortare il suo esercito da grosse mute di cani Ma senza risalire a notizie di oltre 23 secoli fa troviamo che nella storia di tutte le battaglie il cane è molto favorevolmente ricordato Nel portare dispacci e munizioni, nello scovare e trasportare feriti come sentinelle e come esploratore in non pochi svariati, a rischiatissimi incarichi il cane, opportunamente addestrato, si è sempre fatto molto onore Episodi a bizzeffe da riempire vari grossi volumi e anche durante la guerra europea è in quella che si sta combattendo fra la Cina e il Giappone e non mancano dei cani guerrieri Allo scoppiare della guerra mondiale il nemico aveva una dotazione di ben 40.000 di questi quadrupedi sapientemente addestrati, ma anche gli alleati non erano del tutto privi di un tale prezioso ausilio bellico Durante le gloriose resistenze di Anversa, di Egi e Namur già in quei primi giorni dell'immagine del conflitto il cane appare sul campo di battaglia trenando mitragliatrici, coadiuvando il raccolto dei feriti dispersi e prendendo persino attiva parte ai combattimenti con l'addentare ferrocemente i nemici durante l'eterrificante carica alla baionetta Non pochi di questi impavidi guerrieri cadono nella furibonda mischia Essi restano feriti e naturalmente nulla si trascura per curarli come si conviene Più di una volta la preziosa collaborazione dei fedeli amici è solennemente citata all'ordine del giorno Particolarmente prezioso l'aiuto degli intelligenti quadrupedi nel delicato lavoro delle informazioni e del controspionaggio E' rimasto celebre un cane lupo usato dagli agenti alleati segretamente residenti nelle fiandre in vase per trasmettere in Olanda le notizie che andavano raccogliendo e che furono di straordinaria importanza specialmente nell'offensiva contro i sommergibili Non meno famoso un altro cane paracadutista che sul fronte lusso venne replicatamente lanciato dall'aeroplano oltre le linee nemiche dove veniva accolto dei nostri informatori che gli affidavano messaggi da portare a destino E questi ammaestratissimi cani conoscevano perfettamente la difficile strada Saltavano i reticolati ad alta tensione proteggenti la linea Passavano a nuoto le più travolgenti correnti dei fiumi Non si lasciavano corrompere dalle più prelibate esche Sfidavano in perterriti le trappole e le fucilate Generalmente questi guerrieri sono scelti fra la cosiddetta razza pastore italiana, belga, tedesca, scolzese E perché il difficile addestramento riesca bisogna che non abbiano meno di 10-11 mesi e più di 3 anni e che dimostrano una spiccata attitudine all'obbedienza Ma è tuttavia necessario che però arrivino non troppo facilmente all'obbedienza perché in tal caso farebbero anche presto a disimparare e accetterebbero il comando anche dagli estrani Il cane guerriero deve essere quindi un po' ribelle diffidente e possedere il massimo grado le preziosi doti che caratterizzano questo quadrupede la fedeltà forza agilità memoria olfatto eccetera Ogni esercito anche per la larga esperienza fattene durante la guerra e per quanto si sta tuttora constatando nel conflitto nippo-cinese non trascure prezioso allevamento dei simpaticissimi amici che anche in tempo di pace trovano larga applicazione nel servizio di polizia e specialmente in quella confinaria per la repressione del contrabbando l'espatrio clandestino eccetera Non meno utile del cane seppure trovi applicazione quasi esclusivamente nella trasmissione dei messaggi è notissimo piccione viaggiatore e anche qui si potrebbe risalire a notizie antichissime perché già nella storia naturale quella di Plinio si parla dell'uso a scopo bellico di questi graziosi pennuti ma preferiamo soffermarci alla storia contemporanea beh ricordando subito ad esempio come nel giugno del 1918 fu grazie alla straordinaria facoltà di orientamento e alle ottime ali di questo prezioso messaggero se durante la battaglia del Piave alcuni reparti italiani di prima linea rimasti completamente isolati poterono fornire fino all'ultimo le proprie notizie durante tutta la guerra europea tanto gli alleati quanto gli avversari adottarono più di quanto non si pensi i colombe viaggiatori per la trasmissione dei messaggi scritti in un linguaggio convenzionale e questo mezzo si dimostrò di radio più sicuro di ogni altro tipo courieri segreti radio eccetera e soprattutto più economico e semplice gli agenti informatori disseminati sul territorio avversario non potevano naturalmente disporre di impianti radio o telefonici per la trasmissione delle notizie e i cani riuscivano talvolta ingombranti tornava allora l'utilissimo piccione che si può tenere abbastanza facilmente celato che non avvaia e in caso di pericolo si fa sparire in un baleno inoltre a differenza del cane questo pennuto collaboratore servì egregiamente anche nella guerra aerea e in quella navale importanti aiuti diede anche come fotografo sull'esile petto dei prodigiosi uccelli venne applicato uno speciale leggerissimo apparecchio a pellicola munito di autoscatto funzionante soltanto dopo un certo tempo e cioè approssimativamente quando il piccione stava sorvolando la zona che interessava così senza rischiare aeroplani con l'inevitabile sparatoria delle batterie antiaere si ottenevano fotografie della grandezza di un francobollo ma suscettibili di fortissimo ingrandimento fra i molti aneddoti ricorderemo quelle del piccione che salvò la vita a sette superstiti di una nave assicurata e che morì esausto dopo di aver portato a destino il disperato messaggio invocante soccorso l'eroico Colombo venne imbalsamato per essere perennemente esposto nella vetrina di un museo di guerra e alla sua memoria venne decretata anche una onorificenza al valore l'addestramento di questi singolari messaggeri che volano in linea retta alla velocità di un direttissimo è tutt'altro che semplice esige una straordinaria dose di pazienza un'infinità di ingegnosi accorgimenti e viene perciò svolto da personale specializzato nelle cosiddette colombaie militari l'istruzione è generalmente svolta in tre distinti periodi preparatorio durante il quale si perdono e quindi si eliminano i soggetti non perfettamente idonei normale e che cioè consiste in continui voli sperimentali per piccioni supestiti complementare o di perfezionamento che è il non breve periodo in cui il colombo viene fatto volare a distanze sempre maggiori sino a ottenere l'ardito e sagaccio esploratore dei cieli di cui parliamo www.redigio.it e la storia continua Grazie a tutti.